Salve a tutti ragazzi, qui è Sam, siamo arrivati alla nona puntata su questa serie Sherlock Holmes e Watson sono i giunti alle miniere, non ci resta che esaminare questa zona quindi ho scoperto che un veicolo leggero e non pesante rispetto a quelle tracce che abbiamo trovato negli altri luoghi questa minina è completamente colapsata, Holmes è curioso, ma per essere vero, non sono completamente sorpreso è difficile a seguire, Holmes questa è stata la leggera abbiamo trovato un altro indizio cioè le viti sono state sottratte da questo posto vediamo se da qua ci sono altri indizi nulla un'unica 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 sovraest i am almost certain it is a Watson could you assist please do you have your pistol good fire at this package Quindi le miniere sono state fatte esplodere Quindi vediamo di fare questa deluzione Ah appunto infatti La miniere è crollata Oh le miniere sono fatte esplodere Siamo giunti qua Occultamento o sabotaggio Vediamo di investigare su qualcosa in più Ci sono gli attrezzi This box must be the safe Let's open it The Mexican company Caracal And the Chilean Barcasas Both want to buy the mines I need more information Perhaps Mycroft could help Watson It seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine The man at Doncaster who fled our approach He smokes Mexican cigars Perhaps Yes Watson We should certainly speak with him Ok ragazzi quindi abbiamo completato quest'area Non ci resta che fare qualche altra domanda al capo stazione della stazione La prima stazione quella lì Di Evesham Quindi E poi regarci un'altra volta a Doncaster per fare qualche altra domanda all'uomo messicano che abbiamo incontrato lì It appears that there was a small warehouse near your station And that it was disassembled Why is that? It was burgled overnight about two weeks ago The police have already started their investigation but I doubt that they'll find anything What was inside the warehouse? Nothing of value A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts But it wouldn't be easy to steal all of that And why would anyone want to? See you later my good man Ok adesso possiamo fare qualche altra deduzione Con... mancano le rotaie per le miniere con le rotaie rubate Perfetto Strada per la miniere Ok adesso dobbiamo regarci a Doncaster per fare qualche altra domanda Dal capo stazione e poi all'uomo messicano Please sir we would ask you not to leave Really? Really? It seemed that you were waiting here for someone Could you tell us if you were at the station last night? No I just arrived from South America A formidable journey no doubt Which country are you from? The Chile Prima di tutto facciamo il focus su questo personaggio Rughe Vestiti eleganti Corporatura robusta Siglo costoso Arte murciano Chile But you are Mexican No you are wrong Why would you think I'm Mexican? Because of your cigars Si cigarrillos So what? Those cigars are the Riccardo brand From Mexico It is quite impossible to find them anywhere but there But not your business I don't suppose that you are on vacation What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros Where did you arrive yesterday? They were on that dumb train I will stay here and hope that the authorities find them Or their bodies It's now my responsibility to repatriate them Who authorized you to do that? The company I work for Could you tell me the name of the company? It's not your concern And what is your name? Enough questions Buenas tardes Not a very friendly man And he is lying He said that he just arrived But we know that he has been here for several days Ok, credo adesso dobbiamo contattare Mycroft con un telegrafo Qua ce n'è uno I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company Here is his reply And it is an interesting one Ok, quindi Queste due compagnie sudamericane sono scontrate per queste miniere Quindi possiamo Messicani contro Cilieni Possiamo collegare con le Cilieni, credo Infatti Andiamo ad altri indizi Che avendo andata forse con No Ok Nessun rangore Messicani arrabbiati Vediamo adesso se possiamo scoprire qualcosa di più Su questa Stazione Per esempio non siamo entrati nella stanza dei bagagli Ok Quindi Il capo stazionale ha ricevuto dei soldi da benessivano Ok, quindi possiamo fare un'altra deduzione Telegramma di Dongast corre Il capo stazionale di Dongast riceve soldi Siamo giunti Passaggi a Dongast o a Dongast esaltata Probabilmente Dongast è stata esaltata Però Continuiamo le indagini per essere certi Vediamo se qua c'è qualcosa Nulla di particolare Andiamo avanti La c'è una deviazione ferroviaria Quindi io direi di andare a guardare This railway branch should lead to the quarry Let us take a look The switch is rusted But it still works Qui quindi abbiamo scoperto che questo cambio può portare alle miniere e non ci resta quindi probabilmente siamo giunti alla conclusione che il treno è stato bloccato, dirottato in questo ramo ferroviario è stato dirottato in questo ramo ferroviario secondario che potrebbe essere stato costruito con i pezzi rubati chissà e che porta al lago che è facciamo fare un'altra deduzione, adesso questa è la vecchia deduzione, strada per la miniera possiamo fare una soluzione per il caso, colleghiamo gli ultimi due indizi e non ci resta che giungere alle conclusioni ok credo che innanzitutto i messicani siano arrabbiati per il furto di questo accordo poi i cileni sul treno che sono stati intenzionalmente lasciati a punto lì perfetto siamo giunti già alla prima trappola messicana, hanno fatto in modo che i cileni restassero sul treno per poi farli esplodere all'interno della miniera quindi una pendetta messicana possiamo dire così i barconi poi occultamento, sabotaggio direi sabotaggio ancora qualcosa ok passaggio a gesto, ok finalmente ce l'abbiamo fatta siamo giunti a è affondato, il treno è stato fatto affondare alla cavallagata siamo giunti adesso alla conclusione che i messicani hanno il fuoco io direi di lasciarlo ai politici confermati a gesto, allora si Sì. 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 Si. Sì. Sì. Quindi pur al finale di questo la serie continuerò ovviamente, se vi piace lasciate un like, al prossimo caso.